Si alza il sipario sulla stagione 2016-2017 del teatro Signorelli di Cortona. Sono i sorrisi, le emozioni, le riflessioni e soprattutto la qualità i protagonisti assoluti del cartellone del teatro cortonese che può vantare i grandi nomi come Bentivoglio, Ingrassia, Pappaleo, Covatta, Giacchetti e molti altri artisti che si alterneranno sul palco del Signorelli. 11 titoli, 9 spettacoli di prose e 2 di danza, 12 repliche organizzate su due turni di abbonamento. Questi i numeri della grande stagione che prenderà avvio il 27 ottobre e si concluderà il 20 marzo. Una stagione che è caratterizzata, come sempre del resto, da una certa varietà di tipologie di teatro, teatro di evasione ma anche teatro di impegno perché nella stagione avremo delle opere e dei lavori che affronteranno dei temi di grande importanza, dall'immigrazione all'omofobia ma anche tanti altri temi veramente importanti però sempre credo con quella caratteristica di leggerezza, di ironia, di simpatia che permette sicuramente a tutti di venire a teatro e anche di divertirsi perché in fondo il teatro è anche divertimento, non solo impegno. Sono stati 4 anni increscendo, increscendo sia come investimento dell'amministrazione, dell'Accademia di Fondazione Toscana Spettacolo ma sia come investimento degli spettatori perché ci seguono sempre più numerosi, tutte le fasce d'età, dai più giovani ai più agè e questo ci consente ogni anno...